bene 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 allora questo segnale vedete il transito a tutti i veicoli che hanno un rimorchio un rimorchio non è importa che rimorchi acciaio pesante leggero la barca non la barca la moto le patate le cicorie non puoi passare se ti mettono un cartello così sempre rimorchiano superare una tonnellata e mezza puoi passare quindi e il pannello ma non ci sta niente e tu non puoi passare con un rimorchio ma io non tengo un rimorchio tengo un carrello appendice un carrello appendice si con il carrello appendice puoi passare e seguito l'auto snodato yes quello che conta non aver un rimorchio vero è proprio alle spalle va bene andiamo a vedere qualche domanda ma sono tutte facili ragazzi non mi ha fatto sbagliare questa domanda vediamo siete stati attenti o il segnale raffigurato indica un autocarro in rallentamento che domanda è la vediamo falso falso non ci posso credere non ci posso credere che sbagliate queste domande non dico che vuole sbagliate tutte ma qualcuno la può sbagliare per non sbagliare fate quiz ci sono 7300 rotti quiz e se non fate un po di schede al giorno non riuscite a fare tutte va bene quindi datevi da fare alla prossima pillola bye